Ciao a tutti e bentornati qui sul canale gioco troppo poco per un'altra puntata di Rocks of Ages Ci faremo insieme, ci faremo insieme, ci faremo insieme, ci faremo insieme 3, 4 nuovi stage, seguitemi Luigi's 14esimo Un signore Iniziamo con la palla normale Siamo partiti un po' in ritardo Attenzione Saltiamo, oh, già una chiave, no 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 Le chiavi, le chiavi sono importanti Come ho fatto a mancarla? E vai, la prima chiave è nostra E quindi lì c'è un'altra chiave Sì, no Allora Voglio quella chiave E l'avrò Ok, abbiamo già due chiavi Però ci siamo, siamo in vantaggio ragazzi Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Se non prendessi tutte queste cavolate Boom E gli abbiamo fatto male Elefanti come se piovesse Non ho più soldi Dovremo optare di nuovo per la palla normale Allora, abbiamo detto Dobbiamo stare sui lati In questo modo Corriamo molto più veloce Certo, lì ci ha messo tutte le trappole Qui Maledetto Ma noi le scriviamo abilmente No Come diavolo? No Ok Grande recupero In extremis Ok Ok Stiamo qua sull'orlo Il nostro nemico è appena appena a metà Noi prendiamo una velocità pazzesca Boom Quasi distrutto ragazzi Elefanti su tutto il percorso Adoro gli elefanti Ok È l'ultima È l'ultima rotolata Andiamo a finirlo Vediamo Abbiamo scoperto che da questa parte Si va giù Che ha un piacere Boom Ha ceduto ragazzi Bene Carlino Una donna Maria Antonietta Dovrò schiacciare una donna Una donna di classe Dovrò schiacciare una donna Dovrò schiacciare una donna Sali Ma no Cacchio Mi sa che lui è appena passato di qua Io gli ho messo tonnellate di elefanti E qua c'è la scorciatoia Bella scorciatoia Ah Sì 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 La prima legnata Va bene Va bene Secondo me Oh guarda Ah lì c'era una chiave Maledizione Secondo me Lì c'è una scorciatoia Quasi Invece quasi Opla L'abbiamo tagliato tantissimo Perfetto Intanto siamo già in fista A tutta velocità Uh Cacchio Devo tenermi i soldi Per una palla chiodata Adesso devo andare di prepotenza Con la mia palla chiodata Devo toglierle un bel po' di vita Via 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 No No riprenditi Ma di tizione Ho perso la mia corazza Ehi Stavo guardando la chiave No E sali Risale Non risale Mi sa che non ce la facciamo ragazzi E' maledettissimo questo schermo Avete visto come sono piccolino Non ce la faremo mai Allora No 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 Anche meno slanzo Così piccolino Vediamo se riesco a sfondarla Non ci crederò mai No Proprio per un Devo riuscire a entrare qua Qua in mezzo Perfetto No Fammi ripartire da lì Per favore Ok Elefanti Nulla Ci deve essere tra me La porta No Non farò eccezione Anche se sei una donna Ti spiacerò Piace No È tornato il drago Non farò ecco Zaballi Pantano FANTASTICO Michele Questo gioco è assurdo Forza Ok prima scendiamo Il mio rivale già parte infuocato Poi io parto malissimo È che devo capire un po' com'è la geomorfologia di questo stage No il nostro amico ci ha già fatto fuori metà della vita E così non posso prendere tanta rincorsa Non avrei pensato di averla solo tu la palla di fuoco Attenzione Oh no Ok spero di fargli molto molto male con la mia pallacchio data Seguitemi No Attenzione Uh Mamma mia ha schivato l'impossibile Ho schivato l'impossibile Uh Come ho fatto Non ne ho idea Allora cercherò di prendere Cercherò di prendere la strada normale In modo da arrivare di sicuro Devo arrivare tranquillo È tutto un casino qui ragazzi Ok Questa qua Ok Piccola scorciatoia No no Ok Forza Noo Crispio Gli mancava tanto così Va bene andiamo dai Basta che la sfioro quella porta Dovrebbe cadere Allora Qua stanno ancora costruendo Perfetto Questa è l'ultima Attenzione Ok aspettiamo No 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 Cacchio Devo fare tutto il giro Speravo di prendere la scorciatoia Dannazione Oh oh sta rotolando anche il mio nemico Devo essere calmo Calmo tranquillissimo Devo mantenere i pezzi Uh Piccola scorciatoia Adesso se la prendo larga Sì Ok Non c'è più niente Oh Che liberazione Tan tan Giro 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 Bene ragazzi abbiamo aperto un altro cancello E Uh Vedremo nella prossima puntata che cosa ci aspetta Intanto grazie Grazie per aver seguito il video Spero vi siete divertiti un pochino E ricordate che anche io gioco troppo poco Ciao alla prossima puntata di Rocks of Ages Alla prossima partita di Rocks of Ages A prossima partita di Rocks of Ages Invece Alla prossima partita di Rocks of Ages A prossima partita di Rocks of Ages